oroscopo agosto 2016 ariete amore ci saranno dei piccoli intoppi in ambito familiare ed affettivo il partner non capirà i vostri sbalzi d'umore e nemmeno i vostri parenti riusciranno a dare un senso al vostro comportamento non vi approfittate dell'amore altrui che poi potreste pagarne le conseguenze lavoro il lavoro vi ha stressato non poco questo è un anno di grandi sacrifici e ne risentite sia dal punto di vista fisico che psicologico tenete sotto controllo i vostri scatti d'ira sia con i colleghi che con i clienti salute vi sentite alquanto spossati e scombusolati pertanto è necessario che sfoghiate ansia e stress facendo passeggiate al parco o dedicando un po di tempo all'attività fisica in questo modo caricherete tutte le tensioni accumulate attivate attivate attivate